Alberto Contador è forse lo scalatore più forte a cronometro del ciclismo moderno e ancora una volta lo ha dimostrato riprendendosi la maglia rosa lasciata solo per sfortuna il giorno precedente. I 59,4 chilometri contro il tempo da Treviso a Valdobiadene sono stati uno sforzo enorme, circa un'ora e venti minuti in soglia per i protagonisti del giro, per di più alla vigilia di una tappa durissima. Contador ha dato l'impressione di non forzare volutamente nella parte iniziale per spingere a fondo sui saliscendi impegnativi del finale che lo hanno visto recuperare circa un minuto al vincitore Vasil Chirienka, la cui vittoria è una mezza sorpresa di giornata. Si sapeva che fosse un ottimo specialista il bielorusso ma il più atteso del Team Sky era sicuramente un altro, il campione australiano a crono Ricciport che invece si è sciolto come neve sotto la pioggia che non ha quasi mai dato tregua ai corridori pagando al traguardo oltre quattro minuti al vincitore e allo stesso Contador. Chirienka ha coperto i quasi 60 chilometri di oggi in un'ora 17 minuti 52 secondi a 45,7 chilometri orari di media cogliendo il terzo successo personale al giro dopo Montepora 2008 e Sestriere 2011 e precedendo di 12 secondi lo spagnolo Luis Leon Sanchez e di 14 Alberto Contador. La prova di Fabio Arun non è stata esaltante anche se il suo non è un crollo alla luce delle ultime prestazioni un po' preoccupanti. Il sardo partito in rosa ha chiuso 29esimo a 3-0-1 da Chirienka e deve recuperare adesso 2 minuti e 28 secondi a Contador nella nuova generale. Da sottolineare che al terzo posto in classifica c'è Andrei Amador, il costaricano della Movistar, alla caccia di un risultato storico nel 98esimo Giro d'Italia che ha però un solo padrone alla vigilia delle grandi montagne. Grazie a tutti.